Salvatore Vella, magistrato già procuratore giunto ad Agrigento, questa mattina si è insedato alla Procura della Repubblica di Gela. È il nuovo procuratore capo. Il passaggio di consegna è in tribunale davanti al collegio retto dal presidente Roberto Riggio. A fare gli onori di casa il procuratore facente funzioni Lucia Musti che dopo circa un anno lascia la città dove era arrivata dalla Procura Generale di Bologna. Vella, nato ad Erice, ha una lunga esperienza in diverse sedi giudiziarie siciliane. Ha lasciato Agrigento dopo molti anni una capillare attività investigativa contro la criminalità. Il nuovo procuratore avrà con sé soprattutto giovani PM che hanno accettato la sfida di Gela. Alla cerimonia l'ex procuratore capo Fernando Asaro per oltre sei anni in città e poi trasferito alla guida della Procura di Marsala. Tanti gli interventi in aula anche da chi con Vella ha lavorato ad Agrigento a partire dal procuratore capo di Leo. Alla cerimonia tutte le autorità, le forze dell'ordine e l'avvocatura, il personale del presidio locale, il prefetto Chiara Armenia e il questore Pinuccio Alberti Nagnello. Vella ha ricordato i suoi primi anni in magistratura, la generazione che iniziava a muovere i primi passi in una Sicilia bagnata dal sangue delle stragi di mafia, la dedizione per il lavoro e il rispetto di tutte le parti e si è detto felice di essere a Gela. Sono consapevole della difficoltà, del compito che mi aspetta, della complessità di questo territorio che resta comunque un territorio bello. Sono felice di essere qui e sono certo che questi anni saranno anni impegnativi ma profiqui. Il nuovo procuratore ha insistito tanto sul concetto di squadra soprattutto all'interno dell'ufficio di procura in un territorio complesso e allo stesso tempo bello. Non ho mai lavorato in territori che posso definire semplici, ho sempre lavorato in procure siciliane, l'ultimo ufficio sicuramente quello di Agrigento particolarmente complicato. So che questo non è un territorio facile, mi porto dietro tutti questi anni di esperienza e la voglia di lavorare in squadra con i colleghi della procura, con il tribunale, di creare un rapporto che sia il più cordiale possibile con gli avvocati e con la nostra polizia giudiziaria. Quello che deve sapere il territorio è che il mio ufficio sarà a disposizione di chiunque abbia subito un torto e che il nostro unico scopo sarà portare pace e giustizia in questa terra.